Ciao vi farò vedere il mio secondo video nel mio canale Mi ricordate nel primo? Dovete ricordarmi ancora Quindi no, ogni giorno mi sono tagliato i capelli Allora, amico Vincenzo Cozzolino, ho 9 anni E sono nato nel 2009 Mi farò vedere una collezione Che voi non resisterete mai a comprarla Ve la faccio vedere buono Il dame tre volatili rapaci Io tengo l'abatros con il corno Che è uno super raro Vi farò vedere questo E raro significa che non c'è qua sopra Allora, qua vedo l'abatros, qua l'acula Qua vediamo il gufo, qua il pappagallo Bene, e adesso vedremo questo Vediamo un'altra collezione della D-Kids Vediamo questi uccelli E vediamo un gufo e un pezzo di gufo Qua vediamo tutta la collezione completa Tra del corpo E qua vediamo il corpo del gufo del dedo Qua vediamo un tipo di piume E un bel giochetto E altri prodotti della D-Kids Ora vi saluto con tanto cuore Ciao E non pentica Prima di salutarvi Ciao 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 Ciao